La visita a Palermo della Commissione Parlamentare Antimafia cade in un periodo nel quale l'intera gestione dei beni confiscati è stata rimessa in discussione. Un numero crescente, oltre 12.000, quello dei patrimoni sottratti alla criminalità, che però per la maggior parte restano inutilizzati. Ma c'è anche il caso delle aziende che molto spesso, una volta sul mercato legale, hanno difficoltà a sopravvivere con rischi concreti per i posti di lavoro e dipendenti. Il tema dei beni confiscati al centro è le audizioni palermitane della Commissione Antimafia. Intorno al tavolo, per cercare una probabile soluzione normativa, si sono riuniti i componenti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ma anche vertici della magistratura palermitana. Presenti infatti il procuratore Capo Messineo, accompagnato dal procuratore generale Scarpinato, dai procuratori aggiunti Teresi, Scalie e Dagueci e dal PM di Matteo. Poi l'incontro con i presidenti e le sezioni misure di prevenzione del Tribunale di Palermo e Caltanissetta e i magistrati e le stesse sezioni, gli amministratori giudiziari di beni confiscati, le associazioni antimafia, Confindustria, Confcommercio e le organizzazioni sindacali. La visita continuerà anche nella giornata di domani. La Commissione si riunirà a Palaccio dei Normanni per incontrare la Commissione regionale antimafia.